Sono ancora raffreddato come un macaco Non ci faccio più Ciao a tutti ragazzoni Io sono Fancy Per fare sta cosa ho perso l'ugola E oggi Ho fatto male Voglio sfidarvi nuovamente ad una challenge Visto che le vinco tutte Se ti piace quello che guardi Perdi Se ti rilassa quello che vedi Perdi Perdi sempre in pratica Porca tro... Però prima di cominciare Vado a salutare Luna la princess Gabriel Bentivoglio Red Ribbon E Giancarlo Sarana Ciao ragazzi E il vincitore di oggi Luna la princess Grandissima Raga mi raccomando se volete essere salutati Vi basterà scrivere un commento divertente Sotto a questo video Bene ragazzi che dite? Andiamo a perdere anche questa challenge? Ma si dai Perfetto ragazzi Ed eccoci qua Oh che figo Sembra essere slime Però l'altra volta mi avete corretto E dovrebbe essere sabbia cinetica Che figo comunque eh Però a quanto pare C'è differenza Beh è normale Uno è slime L'altro è sabbia Grazie al ca... Poi... No l'avevamo visto anche l'altra volta Che figata Disegni in un punto E lui te lo ricrea dappertutto Questo servirebbe a me Visto che disegno come un bambino di otto mesi Che cavolo è questa roba Che cavolo è questa roba Ma che... Questo per caso è il taglio a porcospino? Ma perché? Ma non ha senso Disney Lui non è molto contento eh Probabilmente non se lo aspettava Se hai guardato ha detto Ma che Cristo ho fatto No eh E non iniziamo con i dolci però Sono ancora a dieta Per favore non mi far vedere ste cose Oggi muoio Ecco Cambiamo che è meglio Che figo Sta facendo tipo un arcobaleno Con delle palle Ma con quelle precisione Ecco questo è figo Madonna raga Ma devi avere un computer nella mano Per essere così preciso Però è estremamente figo eh Che? Ecco Iniziamo Se vabbè Ma che cosa mi stai dicendo? Ma è Dio Ma che cosa mi stai narrando? Cioè io non ci riuscirei neanche se fossi sopra ai bicchieri Ma come fai? Poi Una pera Però mi sa che è un dolce vero? Allora mi volete male Ditelo Cioè mi metto a dieta Solo dolci Aha No vabbè dai Eh vabbè Sì Ma Io non ho parole Cioè adesso ci sono solo dolci È diventata una prova a non avere fame E io sto perdendo perché ho fame Guarda quante palline di panna Sto morendo dentro Oddio ma Ma che cos'è? Sembrava fosse realmente cucito In realtà è solo truccato Madonna mi sono caccato addosso Pensavo fosse una cosa orribile No vabbè raga Io non ci voglio credere Cioè questo sta facendo delle cannucce di cioccolato Ma perché mi volete male? Guarda Me le mangerei tutte in un colpo solo Ma non posso Oddio Chi sei? Goku non lo sai Però Presto lo scoprirai Ah sta provando a far esplodere il palloncino coi capelli Ma cosa? E ci è riuscito pure E' realmente Goku allora Poi No vabbè ragazzi Io non ci sto credendo Ma che sta succedendo? Ho fatto anche la rima Però qui almeno sta disegnando Che figo da vedere Guarda lì Quanto è bello Cioè io non so disegnare su un foglio Figurati su una torta Vabbè Questo cos'è? Che figata raga Ti verranno tutti i cerchi perfetti Guarda lì Tu basta che appoggi il pennarello E fa tutto lui Guarda che figata Puoi anche colorare praticamente Questo è fighissimo Voglio vedere come è uscito Guarda lì A che serve il compasso quando hai questo? Eh? Ma cosa stai dicendo? Com'è possibile questa cosa? Cioè stava camminando sulle acque? Prima abbiamo incontrato Goku Adesso Gesù Poi? Che cavolo è? Ah Lo so Esatto Questa macchina praticamente frantuma qualsiasi cosa Anche una bombola del gas Come? Questa se per sbaglio ci metti la mano Diventa un coriandolo Ma andiamo avanti Ma oggi sono dolci? La vogliamo finire? Ma guarda che roba Come mettono il caramello sopra queste mini ciambelle Una candela Ah forse ho capito Esatto Esatto Raga è assurdo Sottodolci sto video Ma basta Però qui dobbiamo guardare lo stile Guardate come sta mettendo il cioccolato Con quale precisione Con quale bravura Come sta mettendo quel cioccolato Che sembra così buono Anche la torta Non scherza Mi sa che sto per smettere di fare la dieta Non lo so perché Basta Ho visto talmente tanti dolci Che è come se ne avessi mangiati Ho già digerito Basta raga Non ce la faccio più Che dite? Ho vinto la challenge No eh Fatemi sapere invece come è andata a voi Eh raga Comunque se il video vi fosse piaciuto Vi invito a lasciare Un bellissimo like Vi ricordo che in descrizione Troverete tutti i link Dei miei social Instagram Facebook E quindi se vi va Seguitemi su Instagram Lasciate un bel mi piace Alla pagina di Facebook Iscrivetevi al canale per supportarmi E ora vi do l'appuntamento Ad un prossimo episodio Ciao ragazzi